io vi ringrazio per essere reduci insomma qui dopo tutte queste ore di formazione capisco che stiamo per chiudere quindi questi sono gli interventi solitamente un po più complicati vado avanti oggi vi parlo di RankBrain CEO per il semplice fatto che mi affascina molto il nome RankBrain perché c'era un sacco di cose di cui vi parlerò insomma intendo parlarvi oggi perché la CEO è un po quello che faccio per mestiere vorrei capire un attimo quanti di voi qui adesso state insomma quanti lavorano col posizionamento sui motori di ricerca per alzate le mani ok quanti sono dei tecnici ok quanti utilizzano wordpress allora come vi dicevo prima poco su di me mi occupo di posizionamento sui motori di ricerca per lo meno questo è quello che facevo oggi vi parlo di queste di queste cosettine cos'è il google RankBrain il ruolo del knowledge graph nel posizionamento sui risultati di ricerca è perché non è possibile ignorare quello che sta per succedere quello che forse è già successo il primo agosto non so quanti di voi hanno accusato un attimino il colpo io personalmente l'ho accusato parecchio come lavorare dunque sulla CEO del futuro dire CEO e dire futuro ha per sempre degli scenari interessanti quindi spero di essere all'altezza parliamo di RankBrain adesso ok quanti di voi sanno cos'è RankBrain per cortesia sempre per alzata di mano ok benissimo sì 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 allora RankBrain è il sistema di machine learning basato su intelligenza artificial utilizzato da google ok questo in estrema sintesi è quello che è quello che RankBrain è il sistema è parte integrante di Amminbird Amminbird è l'algoritmo diciamo il nome che viene dato così all'attuale algoritmo che lavora per google e si posiziona a RankBrain alla fine del ciclo di ricerca questo è un primo dato che secondo me è abbastanza interessante cioè google sapete che ha tantissimi algoritmi che lavorano per posizionare i risultati no RankBrain è alla fine di tutti questi processi acquisisce tutte le informazioni le elabora ok è sulla base di ciò che filtra tra virgolette e ovviamente sulla base dei calcoli fatti in precedenza un risultato viene posizionato è interessante capire questo processo perché qui l'ho sintetizzato in quattro punti ovviamente in maniera un po virtuale query algoritmi RankBrain e poi alla fine avviene il posizionamento se vuoi fare posizionamento in realtà perché ti interessa essere visibile essere visibile vuol dire acquisire traffico e se vuoi acquisire traffico è perché vuoi richieste di contatto di insomma vuoi vuoi un feedback da parte di chi sta dall'altra parte dello schermo quindi capire in che modo viene organizzato in che modo viene organizzato il lavoro di Google all'interno di questi processi credo che sia importante e quando dico che RankBrain è importante lo è per alcuni motivi questi secondo me sono i principali cioè per la prima volta nella storia parliamo dell'introduzione di un meccanismo di machine learning che va direttamente a inficiare la capacità di un risultato di apparire o meno la cosa interessante del machine learning che spesso viene confuso con intelligenza artificiale l'avete visto nei film un sacco di volte però di fatto il machine learning che cos'è la capacità di una macchina di assumere delle posizioni in funzione di una cosa che succede quindi una capacità chiamiamola tra virgolette di auto apprendimento d'accordo l'introduzione di questo segmento è fortemente indicativo di questo periodo storico perché i segnali a questo punto che la macchina acquisisce diventano fondamentali siete d'accordo cioè quando una macchina è capace di lavorare dei risultati in funzione dei segnali che riceve il tipo di segnale se permettete è un punto molto rilevante quindi abbiamo trovato il discorso di intelligenza artificiale ovviamente RankBrain assume un ruolo chiave in quello che Gennaro prima mostrava ovvero il knowledge graph di Google che è un grafo della conoscenza c'è una cosa enorme un database gigante strutturato il grafo è proprio la struttura in cui si muove qui si muovono le informazioni Google è lì che gira e collega le cose per poi restituirci dei risultati quando parlo di segnali e qui c'è sul fiatone ragazzi sto morendo esageriamo un po più piano c'ho fretta capito e fatelo un applauso quando parliamo di segnali e qua diciamo ci tengo a sottolineare questo elemento dobbiamo capire che sono cambiate molte cose e che in questo momento storico probabilmente non ci stiamo pienamente rendendo conto di ciò che sta succedendo non voglio introdurre nessun tipo di scenario fantascientifico però voglio semplicemente sottolinearvi come se fino a ieri Google no che per eccellenza il motore di ricerca con cui ovviamente lavoriamo posizionava dei risultati in funzione di quello che veniva scritto su una barra di ricerca in questo caso Google sta cercando Google qui se fate se un po dovete ridere però se non la capite solo che lo stesso è alla vostra parte Google cosa faceva apprendeva no apprendeva le informazioni che tu li digitavi e quello era il segnale massimo attraverso il quale poi faceva tutta una serie di considerazioni oggi le cose sono cambiate e Google ha una serie di segnali da valutare vi faccio un esempio la cronologia delle posizioni il punto esatto in cui ti trovi facendo quando fai una ricerca oggi va a modificare la serp che tu ti trovi davanti ok questo non succedeva fino a poco tempo fa l'individuazione della tua posizione è un elemento chiave perché quando tu cerchi un ristorante sia a Milano in un certo quartiere lui ti fa vedere i ristoranti di quel quartiere vicino a te se fai la stessa query a Napoli o in un altro punto dell'Italia o della stessa città ti mostra dei risultati diversi il tempo di permanenza sul sulla RET sulle SERP è sempre stato un elemento però adesso che lui ha il knowledge graph dalla sua quindi è lui che ti sta rispondendo non più il sito tutti quei processi che avvenivano in maniera organica e naturale sono moltiplicati e sempre più veloci e tra l'altro possono disporre di una potenza di calcolo che fino a qualche anno fa era praticamente inimmaginabile domani potrebbe ad esempio prendere una previsione degli spostamenti per elaborare diciamo delle quei o delle risposte in linea con con delle ricerche gli scenari sono veramente tanti e sono molto aperti la cronologia delle ricerche vocali questo è un grafico molto interessante perché ci fa vedere come portami a casa chiama mamma e chiama babbo no sia aumentato in maniera esponenziale attraverso google trend questo perché succede perché le ricerche vocali sappiamo tutti che vanno sempre più 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 in ascesa l'individuazione di topic e di parole effettuata all'interno delle ricerche vocali diventano quindi un altro segnale che noi stiamo dando al motore di ricerca ovviamente lui già oggi è in grado di categorizzare le ricorrenze d'accordo una cosa che magari in non sa non tutti diciamo tendono a a prendere in considerazione che per esempio con un cellulare android lui ascolta tutto il tempo per esempio quello che quello che diciamo noi può utilizzare questi dati per fare del remarketing domani ipotizzo qui è ora poi ovviamente lascio il tempo che trova potrebbe per esempio riuscire a calcolare il tono di voce in base al tono di voce restituire un risultato anziché un altro non è qualcosa di molto lontano da quello che già sta sta succedendo però il insomma il punto che vorrei sottolineare come tutti questi segnali di cui vi sto parlando sono assolutamente lontani e distanti dallo scrivere su una barra una parola d'accordo e pretendere che quello sia un unico elemento sufficiente e quindi l'unica cosa da prendere in considerazione per posizionare una serie di risultati oggi numerosi esperimenti ho dimostrato vi dicevo prima che google in ascolto anche quando il telefono è spento e appoggiato ed è in continuo apprendimento ok quindi non vi dovete stupire se per esempio quando fate quando parlate di un determinato argomento dopo nella rete di remarketing vi trovate degli annunci ecco perché questa avviene proprio perché lui ha questa capacità ti ascolta elabora categorizza e porta avanti la dv come vengono servite queste risposte anche qui prima c'era il computer no scriviamo nel computer ed era tutto lì oggi in realtà le risposte le abbiamo su smartphone su desktop su dispositivi vocali e su e sull'advertising questo è interessante perché ci fa capire come aumentano i media no attraverso i quali lui dà le risposte quindi se il concetto della serie del posizionamento vuole dare visibilità io dovrò avere visibilità necessariamente in tutti questi canali e dovrò ottimizzare la mia pagina il mio sito la struttura quindi del sito del mio contenuto affinché google possa poi distribuirla utilizzando questi ultimi il punto qual è che se fino ad oggi abbiamo parlato di posizionamento sui motori di ricerca no oggi in realtà stiamo parlando e converebbe parlare di posizionamento per i risultati di ricerca perché il motore di ricerca come lo conosciamo oggi probabilmente tenderà a sparire da qui a poco tempo voi perché le ricerche vocali aumenteranno voi perché cambierà il modo di dimostrare il risultato ciò che conta oggi è capire che è il modo in cui serviamo il contenuto che fa tutta la differenza di questo mondo da questo punto di vista fare la seo prima un piccolo appunto chi fa seo sarà sarà d'accordo si limitava a svolgere si limitava ragazzi tra virgolette era un lavoro anche quello però diciamo aveva un'area no abbastanza delimitata ottimizzavamo tutti i principali metatag controllavamo la struttura tecnica del sito e poi banalmente si poteva ragionare dell'ottimizzazione testuale per prossimità pertinenza e addirittura densità delle parole chiave no tutte cose assolutamente diciamo abbastanza indietro rispetto al mondo che ci che ci troviamo davanti oggi fare ottimizzazione seo quindi oggi che significa significa ovviamente fare tutta quella parte ma anche soprattutto finirla con sta roba di yoast del sebaffolo verde se posso dirlo perché veramente mi fa venire l'ansia l'idea ma soprattutto capire che la distribuzione del contenuto è importante quindi la marcatura schema è sicuramente un elemento chiave no la marcatura del contenuto è un elemento veramente da prendere in considerazione perché permette di parlare direttamente la macchina e di conseguenza trarne tutti i vantaggi e tutti i benefici lavorare inoltre sul miglioramento dei segnali dell'utente perché google legge i segnali dell'utente cioè ciò che interessa l'utente deve interessare a chi fa seo perciò l'ottimizzazione on page oggi non può più diciamo prescindere dal comportamento che l'utente attua nella pagina perché qualunque segnale possa essere diciamo in topic con qualcosa di positivo vale più di qualunque tag metatag e se non è così diciamo evidente oggi sicuramente lo sarà da qui da qui a breve quindi la domanda è cosa posso fare questo momento marzullo dove mi faccio la domanda e mi do la risposta allora analisi obiettivi e kpi cioè ragionate per progetti cioè il consiglio ovviamente questo ragionare per progetto partire da un'analisi di mercato che stabilisca attraverso diciamo delle una situazione chiara quali sono qual è l'ambito semantico nel quale si lavora di quante ricerche si diciamo si può avvantaggiare questo specifico segmento di mercato e cosa fare per poter raggiungere quel livello di visibilità quindi partite da un'analisi si pianificano delle azioni per raggiungere questo livello di visibilità utilizziamo ancora le keyword per monitorare ovviamente l'andamento ma senza fissarci troppo su su questo consiglio numero due utilizzare la struttura silos questo è lo si fa da tantissimi anni secondo me oggi resta una cosa molto valida perché permette sia una buona navigabilità dell'utente sia una perfetta scansionabilità del sito lato crawler e motore di ricerca ovviamente ci va un buon piano editoriale vince il contenuto non tanto la la struttura lavorare sull'asse home page marcando i dati strutturati ottimizzando i link interni che secondo me sono molto importanti ottimizzare gli articoli meno performanti per farli performare meglio e monitorare come dicevo prima il comportamento dell'utente con dei software tipo hot jar smart look insomma questi software che mi permettono di capire cosa sta facendo e di conseguenza accorgermi che un contenuto sta funzionando rispetto a un altro che non funziona puoi comprendere il momento anche qui gennaio ne parlava prima cioè le serp sono informazionali navigazionali e transazionali dal primo agosto google ha buttato giù la gran parte dei risultati presenti sulle serp transazionali c'è stato questo famoso medical update così l'ho chiamato il discorso quale dal mio punto di vista google un'azienda vuole fare soldi i soldi li fa con adwords e quindi vuole che tu utente medio vai a fare più inserzioni possibili alcuni vedono questa cosa come un po complottistica secondo me dal punto di vista aziendale il minimo sindacale voglia fare più soldi possibili quindi lavorare su sulle due serp che per adesso continuano a reagire per lo meno personalmente non ho visto grossi crolli ovviamente sempre la seotecnica messa davanti a tutto cioè se non sei in grado di parlare correttamente al motore di ricerca non puoi pretendere che lui ti capisca e addirittura arrivi a premiarti ok quindi teniamo presente sempre che la seotecnica è imprescindibile velocità evitare gli errori http https occhio a tutti questi script che girano per la gdpr no che ti dicono installa questo alla fine c'hai magari un rallentamento sul server e tutta una serie di problemi un'altra cosa importante secondo me ma da qui per il futuro proprio è quello di lavorare sull'autorship ma l'autorship non è un concetto diciamo che ci auto attribuiamo autorship come elemento dichiarato d'accordo cioè se tu fai un lavoro se tu hai un'azienda ok e sta dormendo guardate perché stai dormendo sto finendo aspetta 5 minuti allora è disperato il mio sito ha perso traffico l'autorship dicevo come elemento dichiarato ok quindi io non è che sono bravo a scrivere dei contenuti tutti me lo dicono e perciò mi posso ritenere autorevole magari perché c'ho anche qualche link no ma lavorare proprio su una marcatura schema che possa dichiarare l'entità dell'azienda che possa specificare il ruolo del copi se c'è un copi dal ceo se sia un ceo di di quello che cavolo è in maniera tale che poi tutti i segnali verticali che arrivano da diciamo indirettamente attorno link citazioni eccetera eccetera possono essere facilmente riconducibili a quell'entità specifica google ragiona per entità quindi questo è un dato è un dato di fatto che andrà sempre avanti qui un piccolo esempio per farvi capire cosa intendo intendo che quando la persona viene marcata correttamente poi google te lo fa vedere anche se l'ha capito oppure no quindi la serp ci dice subito se abbiamo lavorato bene o se abbiamo lavorato male in questo caso la domanda che lavoro fa roberto serra vedete che scrive professionista seo lo dichiara perché è specificato nell'entità e poi qua ti dà tutte le informazioni tra cui una inventata io non mi sono mai laureato all'università luigi boconi ho fatto l'accademia di belle arte a sassari però diciamo questo è interessante anche perché come in realtà è un'operazione che ho fatto per per mettere un attimino in guardia anche le persone no non crediamo che tutto ciò che dice google sia vero perché le cose che dice google sono state messe da da delle persone d'accordo e quindi vi ringrazio per l'attenzione insomma questo talk finisce qua sono stato molto veloce applauso vi ringrazio